A contro esce anche Patrici, Patrici contro la rossoluzione Pagioni alla certa della scena. Esce il giocissimo Patrici Pagioni. Vai, vai. Alex Aramburu viene premiato da Pausto Francesca, sindaco di Amorcofranco di Ibrea. Alex Aramburu sul terzo gradino del podio, redizione numero 107 della Gran Piemonte, Gredi Agricolti. Alla secondo posto in maglia WAE Team Emirates dalla Svizzera, Mark Hirschi. Il cantone nazionale svizzero viene premiato da Fabrizio Ricca, assessore allo sport della regione Piemonte e da Silvio Caruozzo, assessore della Comune di Padria. Secondo classificato alla Gran Piemonte, Mark Hirschi, WAE Team Emirates. Vince l'edizione 2023 della Gran Piemonte, Gredi Agricolti. Verso dal quick step, Andrea Baggioli. Il visitore del Gran Piemonte viene premiato da Roberto Maio, responsabile in zona Torino Nord della direzione regionale Piemonte di Gredi Agricolti. E da Vittorio Bellone, sindaco di Padria e Andrea Baggioli a scrivere il proprio nome dell'almodoro della Gran Piemonte. Ed ora, signore e signori, in onore del vincitore della Gran Piemonte, l'inno nazionale d'Italia. Grazie mille reggiano moderno di Gredi müsst. Grazie mille. igoli e ehgiana Per inizio tutte le書iche del Santiagoczyno Urmaani WellShihi Suviải Pei Inizio Pei 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 Es Pei Be No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.